erica rosio riprendiamo a parlare di questi personaggi che tu hai conosciuto ma poi dopo dobbiamo parlare anche di cinema però questo se non altro per spiegare a loro che il cinema è fatto di produttori è fatto di attori è fatto di personaggi è fatto di emozioni è fatto di umanità è fatto di soldi di soldi di interessi di promozioni di moda di contratti pubblicitari di per esempio sul quando ci sono gli oscar c'è il famoso lì mai erica però io pensavo che si per quindi non ti smettiamo l'intervista perché agli oscar non ci sono stata però so tutto della gift bag degli oscar perché quando tutti quelli che hanno le nomination ricevono questa questo pacco dono del valore di 300 mila 400 mila dollari cioè delle cose molto corpose dove ci può essere dentro di tutto tutti gli sponsor perché il cinema è anche business quindi ci può essere mi ricordo che una volta c'erano i prodotti cosmetici di Brad Pitt perché Brad Pitt ha anche produce queste cose molto ayurvediche ci sono ingressi nelle palestre borse sciarpe vestiti macchine insomma 400 tu hai scritto hai scritto un libro su Marilyn Monroe come come è nata l'idea ma io trovo che lei sia davvero sono tanti di libri sì infatti è anche un po presuntuoso dire perché ne scrivi un altro ma chi sei tu e vabbè però bisogna un po buttarsi nelle cose e l'ho scritto un po identificandomi un po cercando di entrare trovo che lei sia un personaggio veramente incredibile e poi riesce a mettere assieme quello che la seconda edizione di questo libro che è uscita per Feltrinelli nella collana real cinema assieme al dvd Love Marilyn che questo documentario fatto quando sono stati ritrovati i suoi diari e poi ritrovati no facciamo un inciso perché tutti i suoi beni personali sono andati a Lee Strasberg compresi i suoi diari le sue poesie eccetera quando Lee Strasberg che fondatore dell'actor studio muore tutto il materiale passa alla figlia la quale semplicemente li ha venduti per cui non sono i diari ritrovati come è stato sbandierato e quindi è uscito questo dvd per la Feltrinelli che si tratta la macchina soffice il libro di Marilyn mio macchina perché lei era proprio una macchina e poi perché gli anni 50 in america erano sotto legida della macchina sia come struttura di produzione sia per l'importanza delle automobili e del darsi da fare industrialmente nelle cose e soffice perché cioè cosa c'è di più soffice di Marilyn quindi questo contrasto fra la determinazione per arrivare perché ne ha fatte di tutti i colori per arrivare e però questo candore questa morbidezza che l'hanno non l'hanno mai abbandonata fino anche all'incoscienza perché una che è l'amante di due presidi di un presidente e di un uomo politico John Kerry di Robert Kennedy cioè era anche un'irresponsabilità pensare che non le sarebbe successo nulla infatti poi abbiamo visto come è finita ma insomma tutti questi contrasti di lei anche se Kennedy comunque era un birbante voglio dire di faceva di tutti i colori sì è come no tutte le signorine le attrici e altro che il povero Clinton pover uomo c'è un vero dilettante al confronto no e comunque secondo me Marilyn davvero lei è emblematica per quella stagione del cinema e dell'america quindi riesce a raccogliere in sé talmente tanti elementi di seduzione di fatica di sfortuna di fascino di tutto che è una su cui secondo me si potrebbero ancora scrivere tantissimi libri anche se una delle cose più belle scritte su di lei rimane il racconto di Truman Capote una bellissima bambina ecco Capote l'hai conosciuto no Gore Vidal sì Elroy sì James Elroy personaggio fantastico che è l'autore di tutti questi gialli ma tu con tutte queste frequentazioni sei sempre rimasta una ragazza pura voglio dire non mi sono mai fidanzata con nessuno no sai che se ho avuto qualche flirt l'ho avuto con un paio di regisi di nessuna importanza e con un attorucolo di nessuna importanza senti e allora è facile farti questa domanda perché allora io quello che amo molto di erica è il suo modo di guardare film cioè erica fatto e fa critica cinematografica però non mi ricorda nessun critico cinematografico probabilmente per la per il tuo rapporto con la letteratura per il tuo rapporto proprio con con la vita insomma però hai un modo di guardare così pulito scevolo da condizionamenti ideologici eccetera e quindi riesci e riesci a osservare delle cose che io molto spesso non non trovo che siano osservate così da altri che invece fanno proprio il critico quello con i baffoni insomma beh sei sempre troppo generoso no è la verità ma io rimango una spettatrice quindi quando vado al cinema sono come un bambino come una ragazza che sta che sogna che si lascia veramente trascinare dalla storia dall'atmosfera cioè mi piace molto anche l'atmosfera della della sala buia c'è proprio il rito il rito del cinema mi piace molto però contemporaneamente cioè ho letto visto fatto no ma quando guardo un film vedo che ci sono sempre tutte e due le componenti quella emotiva e quella razionale